Dopo una petizione che in dieci giorni ha raggiunto 1200 firme, Marina Romea fa sentire la propria voce contro le buche e il degarado nelle strade. Con un flash mob, cittadini, turisti, commercianti e proloco chiedono al Comune una migliore manutenzione delle strade. Oggi diamo forza alle firme raccolte con un corteo di protesta dove speriamo che ci sia una forte partecipazione che è quella che è stata promessa da cittadini, residenti, commercianti di Marina Romea perché la situazione delle strade, dei marciapiedi è insostenibile, è ingiustificata. È ingiustificata la mancata manutenzione che da anni viene a Marina Romea. Siamo convinti che certi turisti, una volta l'esperienza, forse si riguarda un'alto nazi perché effettivamente c'è soprattutto anche il viale principale interno, anche il viale delle palmi, cioè c'è il rischio di rovinare la macchina al sotto, insomma sono cose, poi l'evidenza è tale che insomma che tutti i sinacologi sono caduti diverse persone.